Dovete assolutamente provare questi involtini con zucchine grigliate e salmone. Sono freschi e sono perfetti come antipasto per accompagnare un aperitivo sfizioso. Pulite le zucchine, spuntatele e affettatele sottilmente con una mandolina. Riscaldate la bistecchiera e poi grigliate le zucchine da ambo i lati. Nel frattempo versate il formaggio spalmabile in una ciotola, aggiungete un goccio d'olio, del sale, del pepe e dell'erba cipollina. Mescolate bene e tenete da parte. Prendete poi una zucchina grigliata, spalmate il formaggio spalmabile, aggiungete il salmone affumicato ed arrotolate, man mano disponeteli sul piatto da portata. Fate riposare per almeno mezz'ora in frigorifero prima di servirli. E mi raccomando, se li provate, fatemi sapere!